ciao sono valerio scanu e volevo fare tanti auguri di buon natale a tutti gli amici di zoom magazine ciao ciao a tutti sono alessio bernabèi con questo video messaggio voglio augurare un buon natale a tutti gli amici di zoom magazine tanti auguri tanti baci e a presto ci vediamo capodanno a reggione con gli amici di radio dj mi raccomando ciao a tutti sono pasquale nuzio volevo augurarvi un buon natale buone feste agli amici di zoom magazine ciao ciao a tutti sono sabrina salerno buone feste a tutti i lettori di zoom magazine ciao un abbraccio e tantissimi auguri di buon natale a tutti voi di zoom magazine da alice bellagamba direttamente dalla sua cameretta nell'hotel a torino ecco claudio guerrini ciao a tutti i cari amici sono qui per la prova del cuoco sono inviato sto girando l'italia questa settimana sono a torino ma mi fermo un attimo per salutare fare tutti gli auguri possibili immaginabili agli amici di zoom magazine auguri buon natale e un grande 2019 per tutti pur a me ma anche a voi auguri 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 di buon natale e felice anno nuovo a tutti gli amici di zoom magazine da me silvia salemi a presto buon natale ma buonissimo natale strepitoso 2019 a tutti gli amici di zoom magazine un bacio ciao sono anna dalton e volevo fare tanti auguri di buon natale a tutti i lettori di zoom magazine ciao a tutti quanti i lettori di zoom magazine volevo augurare un buon natale e un felice anno nuovo che sia pieno di serenità di gioia e di tanta salute auguroni dalla giudizia ciao ciao allora un bacio a zoom magazine con tutto il mio cuore ciao buon natale buon anno nuovo a zoom magazine da emanuel caserio ciao ciao a tutti sono antonio mezzancella volevo fare tanti auguri di buon natale a zoom magazine ciao a tutti buon natale vera christmas volevo augurare a tutti un buon natale un felice anno nuovo a voi di zoom magazine da agnese lorenzini un bacio a tutti e un caloroso buon natale è severamente vietato oltrepassare le transenne ma io per il lettore di zoom magazine lo faccio oltrepasso le transenne e vi auguro un buon buon natale buone feste e un buon inizio anno da marco brandizzi ciao a tutti volevo fare un augurio sentitissimo di buon natale di buone feste a tutti voi io vi mando questi auguri dalla mia città la mia città è verona e chi è guardate che albero io vivo a roma ma alberi così non ce ne sono bene io vi faccio tanti auguri ma soprattutto faccio gli auguri a tutti i lettori di zoom magazine ciao passate buone feste un prospero 2019 e tanto riposo che ci sta ciao ciao sono maglia andreozzi e auguro buon natale a tutti ma soprattutto agli amici di zoom magazine ciao ciao zoom magazine volevo augurarti un buon natale e felice anno nuovo un bacio da marina crialesi un saluto straordinario grandioso agli amici di zoom magazine non che abbiamo qualcosa in comune la zeta savino zaba ciao auguri buon natale leggete zoom magazine un saluto un bacio e un abbraccio a tutti gli amici di zoom magazine ciao sofia bruscoli zoom magazine auguri di buone feste e buon natale valerio pino vi ama di brutto ciao un saluto da francesca lotta per tutti i lettori di zoom magazine un abbraccio e tanti auguri di buone feste e spero di vedervi presto un bacio da francesca rotto ciao sono marco stabile e stand believe da kinky boots e volevamo salutare zoom magazine ciao ciao io sono francesca ceci e vi faccio tanti tanti auguri di buon natale a tutti voi di zoom magazine buon lavoro e buone feste auguri e buone feste a zoom magazine da giulia padre cd zoom magazine un buonissimo natale da da me e sono qua in questa sono qua in questa bellissima location ma non mi sposo e solo per tra poco si mangia quindi buon natale a tutti un bacione ed un augurio a zoom magazine un bacio da francesca testa secca